Bene, allora possiamo cominciare. Grazie per avermi invitato a fare questo incontro. Devo dire che questi incontri sono utili anche perché ci aiutano in qualche modo a riflettere un po' su quello che facciamo. Devo dire che anche facendo l'insegnante spesso il rapporto con l'allievo è diretto, quindi si affronta il problema sul momento. Queste occasioni sono anche dei momenti per raccogliere delle idee. E quindi oggi ho pensato di organizzare questa presentazione intorno a più o meno a questi argomenti. Allora, innanzitutto, noi cosa abbiamo in mano, diciamo, dal punto di vista storico? Storico, sento parlare. Cosa abbiamo in mano dal punto di vista storico? Allora, sulla base, diciamo, delle fonti, delle fonti che abbiamo, come voi tutti sapete, sono piuttosto scarne, diciamo, le informazioni che abbiamo. Scusate se mi interrompo, sento qualcuno che parla, non so se lo sentite anche voi. Sento una voce che... Sì, credo sia qualcuno che parla a telefono e non ha spinto il suo microfono. Però mi distrae parecchio. Scusa Andrea, può succedere, cerco di silenziarli, però... Sì. ...pro trovarli prima, quindi ci vuole... Sì, scusa che mi perdo un po' il filo. Eh, lo so, purtroppo... Adesso comunque non c'è. Bene, bene. Allora, stavo dicendo appunto, noi per quanto riguarda le fonti che abbiamo, su come veniva autorizzata la mano destra nel rinascimento, abbiamo delle, come dire, qualche linea guida che ci viene dalle fonti che abbiamo e che non voglio stare oggi qui a ripetere perché non è questo, quello che vorrei fare. Di molto importante cosa abbiamo? Abbiamo le intavolature che ci sono rimaste e che ci danno una serie di, come dire, di problemi, di piccole sfide, di suggerimenti nello stesso tempo ed è il materiale con cui noi effettivamente lavoriamo. Ovviamente poi lavoriamo anche con gli strumenti, nel senso che il rapporto che noi abbiamo con il nostro strumento sia un sei cori, un sette, un otto cori e così via, le corde che ci abbiamo messo sopra, tutto questo crea una serie di, come posso dire, di interrelazioni, no? Fra queste varie entità che ci, come dire, permettono di fare la nostra strada, di andare avanti e anche quello che è necessario fare, secondo me, ogni tanto è anche quello un po' di fare i conti un po' con quello che abbiamo imparato, con quello che insegniamo e rimetterlo un po' in discussione, trovare nuove idee, nuove suggestioni. Come tutti sapete, poi, diciamo, l'argomento, posizione della mano destra negli utori rinascimentali è stato anche trattato, ci sono degli studi più noto, anche il più approfondito, quello di Paul Bayer, che comparve tanti anni fa. Poi ho visto che ha fatto ultimamente, proprio per, mi pare, l'ultimo bollettino della nostra società del liuto, ha ripreso l'argomento. Insomma, segno che il problema è comunque importante da affrontare. Insieme a tutte queste cose, noi cosa dobbiamo dire? Dobbiamo cercare di costruirci una tecnica che ci permetta poi di, in qualche modo, dare una conseguenza a queste informazioni che noi ricaviamo dalle fonti e anche di formarci un ideale di suono. Ognuno di noi ha e dovrebbe avere un ideale sonoro che ovviamente è anche influenzato dalla nostra storia, dai maestri che abbiamo, che abbiamo avuto, i concertisti che ammiriamo e ovviamente la nostra esperienza. Ecco, quello che è importante è che a un certo punto la nostra esperienza comincia a diventare determinante. In tutto questo, oggi volevo cominciare però con qualcosa un po' fuori dagli schemi, per così avere qualche piccola suggestione, perché in tutto questo c'è anche, molto importante, l'apporto dell'iconografia. C'è anche l'apporto di qualche fonte letteraria un po', come dire, un po' periferica, che però in qualche modo può darci dei, come dire, dei piccoli suggerimenti. Innanzitutto questa immagine che tutti conosciamo, il ritratto di, l'ho messo qua solamente un dettaglio perché tutti lo conosciamo, la diutista di Bartolomeo Veneto, che già ci dà una idea della posizione della mano. Ma adesso poi la cosa ve la dirò nella prossima immagine. Non pensiamo solo alla posizione della mano, ma pensiamo anche a cosa potrebbe esserci, come dire, sotto, al di sotto di questa posizione. Cioè l'atteggiamento di questa mano. Ci sembra un atteggiamento di una mano che suona? Io ho scelto un paio di esempi in cui mi pare che la risposta sia certamente positiva. L'altro esempio che ho scelto, che forse conoscete, ma è un po' meno diffuso, è questo angelo, cosiddetto angelo in rosso, è un angelo che è stato realizzato per un trittico. Un trittico in cui al centro c'era la Vergine delle Rocce di Leonardo da Vinci. Quindi siamo a Milano, fine del 1400, il quadro principale era la Vergine delle Rocce di Leonardo, per la chiesa di San Francesco Grande a Milano, e ai lati ci sono due angeli. Uno suona la viella e uno suona il liuto. L'angelo in rosso suona il liuto. E anche qui io mi sono trovato di fronte a un'immagine che è, devo dire che è plastica, che in qualche modo mi suggerisce un atteggiamento della mano, in maniera simile all'aliutista di Bartolomeo Veneto. In che senso? A parte il discorso che lo stesso atteggiamento, la posizione del braccio, che arriva un po' al centro rispetto al ponticello, vedete, proprio orizzontale, parallelo alle corde. Tenete conto che qui siamo alla fine del 400, quindi quando ancora non era stata stampata nessuna intavolatura. Quando ci troviamo al passaggio fra tecnica del plettro e tecnica, diciamo, della mano, tecnica polifonica, chiamiamola anche così, perché poi Joanne Stentoris ci parla proprio di questi liutisti che proprio in quest'epoca stupivano gli ascoltatori, riuscendo a suonare più composizioni polifoniche con più voci insieme. Era una cosa che non si era mai sentita, perché nessuno ancora aveva mai suonato il pianoforte, la chitarra. Nel senso, noi abbiamo un bagaglio di musica polifonica suonata su strumenti tutto sommato, solistici, ma all'epoca non c'era questo, quindi doveva essere stata veramente una sorpresa eccezionale quella di vedere un musicista che riusciva a suonare più voci sullo stesso strumento. E qui noi, a mio avviso, abbiamo questo. Abbiamo una posizione della mano sicuramente che va d'accordo con quello che noi sappiamo della musica, dello strumento di questa epoca, ma soprattutto abbiamo secondo me un atteggiamento, che è un atteggiamento di contatto con le corde, che è un atteggiamento anche di un movimento che viene da lontano, viene, come dire, il braccio del suonatore, dell'angelo suonatore, si vede che abbraccia il liuto in maniera rilassata e che, come dire, io mi immagino in qualche modo un certo tipo di suono che potrebbe scaturire se questo dipinto prendesse vita. Accanto a questa immagine, qui vi faccio vedere un dettaglio. ecco, vedete, io vedo chiaramente il contatto con le corde e non... come dire, ovviamente la posizione del pollice interno rispetto all'indice, l'indice fa un arco che però non è troppo, come dire, esagerato, non è teso, è messo veramente in modo che può suonare. Allora, dicevo, accanto a questo vi voglio leggere un'altra cosa che non so se tutti hanno letto. La si può leggere nel libro sul liuto che ha scritto Davide Rebuffa, io lì l'ho trovata per la prima volta. è una testimonianza sul liuto di Paulus Paulirinus, Magister Paulus de Praga, il quale mi ha scritto questo trattato, Liber Viginti Artium, è una specie di enciclopedia del Quattrocento in cui parla di tutte le arti, a un certo punto parla anche del liuto, e lui dice che il liuto è uno strumento musicale che si discosta dagli altri per la delicatezza del suo timbro. Quindi già a quell'epoca dobbiamo pensare a questo, delicatezza del suo timbro. Ha cinque core di corde, ancora cinque come del resto anche il dipinto che vi ho fatto vedere prima, sempre doppi e nove tasti sul manico creano le diverse note mediante l'applicazione delle dita. Il suo corpo concavo fa le veci del petto umano, la rosetta della bocca. Il manico è simile alla trachea e le dita, correndo su di esso, svolgono la funzione delle piglottide. Scusate, ho scritto male, svolgono la funzione. Il pizzicare delle corde è simile alla compressione dei polmoni che fa uscire la voce, ma il budello delle corde è come la lingua che articola i suoni. Il liutista è l'intelligenza che produce il suono. Potremmo dire che ha scritto un piccolo metodo di liuto in qualche modo questo signore, perché, come dire, ci dà almeno, almeno a mio avviso, ci dà una serie di suggerimenti sul fatto che il liuto già nella sua fase proprio iniziale, ripeto, ancora non c'era Francesco da Milano, non c'era Dohland, c'era quell'epoca Pietro Bono, questi liutisti tedeschi di cui ci parla Tintoris che erano molto bravi a suonare più voci insieme. Però già il liuto è uno strumento che parla e ovviamente il liuto parla con la mano destra, nel senso che sì, la sinistra li aiuta a sostenere i suoni e affermarli quando necessari. Quindi la sinistra ovviamente è fondamentale e collabora, ma la capacità proprio di articolare, di parlare con lo strumento, ce la dà la mano destra. Ecco, quindi tutto questo ovviamente noi dobbiamo poi corretarlo, arricchirlo, diciamo, con la nostra esperienza, con la scuola che ovviamente c'è stata riguardo alla tecnica del liuto, ormai si parla di ormai diversi decenni, quindi, come dire, tutto questo ha lasciato il segno, ma deve essere anche, secondo me, un'idea che ci permette di proseguire. Allora, detto questo, io adesso interrompo la condivisione e vi inviterei a vedere il file che vi ho condiviso, sperando che sia stato possibile scaricarlo. Sì, sì. Bene. È nella chat se qualcuno... Perfetto. Allora, questo discorso che io appunto ho trovato in Maestro di Praga, diciamo, questo già tanti anni fa, era una delle cose che diceva Hopkinson Smith quando parlava un po' dell'attacco. La citazione che fa Fuelliana riguardo al suono che si può tirar fuori dalla viguela, ve la rileggo se non la ricordate, dice Fuelliana, come forse ricordate, parla dei vari modi con cui si può realizzare la diteggiatura della mano destra, parla del dediglio, che è la maniera di alternare l'indice in su e in giù. Dice questa... Dice io poi... Lui è un po' diplomatico, dice non voglio dire che... Ci sono dei bravissimi esecutori che sono capaci a usare questa tecnica, però per conto mio si sente il colpo dell'unghia quando l'indice dà il colpo in giù. Quindi poi parla della maniera di suonare col pollice e l'indice, poi quella che secondo lui lui è superiore a tutte quante, che poi è un po' quella che si pensa sia quella più usata sulla viguela, è quella dei dos dedos medio indice. Però la cosa che qua vi volevo dire in maniera più, diciamo, significativa è il fatto che lui a un certo punto dice, dice tiene grande... conferisce una grande eccellenza il colpire la corda senza che si intrometta unghia o nessun'altra maniera di invenzione. Quindi aprendo anche negli squarci sui possibili utilizzi di tali, i famosi di tali d'argento che pare avesse usato Francesco da Milano in un'esecuzione. e poi continua perché è solo il dito come cosa viva, quindi la carne, no? È solo nel dito come cosa viva che consiste il vero spirito che colpendo la corda si suole dare al suono. E quindi questa è una delle altre immagini che secondo me ci possono aiutare. Detto questo, passiamo un po' a... Adesso ho cercato un po' di trovare alcuni esempi in cui cerco di spiegare un po' quella che poi alla fine è stata la mia esperienza nel tempo. Esperienza che devo dire mi ha fatto nel tempo cambiare un po' di cose. Una in particolare, lo dico in anticipo perché credo sia importante, è il fatto che dobbiamo sempre essere molto attenti a quanto, diciamo, nel nostro movimento, delle nostre dita è suono, è azione concentrata e quanto è azione che va disperza. In altre parole, anche quanto... quanto spazio lasciamo dopo che abbiamo pizzicato la corda. Ma andiamo un po' con ordine. L'ordine che ho pensato è un po' quello che è stato quello della... così, dello sviluppo della musica e della tecnica per l'iuto nel rinascimento. Per cui, se voi prendete il primo esempio che ho messo, è tratto dal primo di cercare di Capirola. E cosa voglio mostrarvi con questo? Voglio mostrarvi semplicemente un passaggio, pollice indice, ad una velocità tranquilla, nel senso abbiamo quattro note per battuta, quindi possiamo considerare dei quarti. Qui non abbiamo gran problema di velocità, ma possiamo avere la pronuncia, possiamo avere l'attacco e possiamo cominciare a lavorare sul discorso della qualità del suono. Per esempio, noi abbiamo questo primo passaggio. Questo piccolo preludio che fa da preludio a ricercare in qualche modo, per poi iniziare. nella regione potremmo dire del tenore, abbiamo subito una contrapposizione di sonorità. Ecco, e noi già questa contrapposizione per esempio la possiamo considerare come un piccolo studio. Quindi, sia per l'attacco, e l'attacco è una, come dire, è un lavoro veramente fatto di, credo, prima cosa è sensibilità tattile, seconda cosa è ascolto di quello che noi produciamo, e terza cosa è controllo del movimento. Cercando subito di metterci in testa una cosa importante, che la qualità del movimento è fondamentale nella produzione del suono, perché la qualità del movimento significa che è preceduta da una pressione, per esempio, a seconda di quanto se io spingo un po' troppo, no, oppure un po' meno, ma sempre cercando il, come dire, il massimo dell'attacco e questa per me è una linea di guida importante, massimo dell'attacco, ma minima superficie di attacco possibile, nel senso che nel tempo visto che troppa superficie di attacco spesso significa anche un suono più, è vero, può essere morbido, ma anche meno caratterizzato e meno pronto soprattutto. devo dire che col tempo succede però una cosa, almeno a me è successa, nel senso che col tempo in qualche modo la punta del polpastrello si è esercitata con questa attenzione, in qualche modo si affina e noi riusciamo a concentrare in una buona superficie di attacco, ma non in una superficie esagerata, potremmo chiamarla una superficie in qualche modo ottimale. La verifica di questo è il famoso esercizio di pressione e di controllo se sul polpastrello si trova il doppio solco creato dalla doppia corda. È una cosa che francamente non dobbiamo mai stancarci di fare, anche se ce l'hanno detto qualche anno fa, diciamo, anche perché in questo modo noi veramente riusciamo a sviluppare la sensibilità. Per dire, io mi preparo a eseguire un accordo di tre corde, fa la re, fa la re e all'istante sento sei corde sotto le mie dita, due più due più due. E questo qui deve essere veramente una sensazione tattile molto certa, molto sicura. E in questo modo io poi ho anche la possibilità di fare questo contatto in tempo molto breve e quindi in questo modo riesco a pulire il suono. Quindi questo esercizio si può fare sia su corde simultanee sia in passaggi come questo dove posso come dire di ogni nota assaporare il contatto con la destra e ovviamente anche con la sinistra ma se voi ci fate caso una corda a vuoto il contatto su una corda a vuoto è diverso dal contatto con una corda tastata il contatto con una quarta corda di budello è diverso da quello con una quarta corda di Neil Goode per dire non parliamo di corde filate sul quarto coro tipo piramide o così che fanno veramente per me un attacco ormai veramente superato e e così via su tutte le corde quindi qualsiasi brano in questo senso può diventare può diventare uno studio l'altra cosa importante che possiamo fare su un passaggio del genere è controllare le angolazioni anche qui abbiamo cerco di farvelo vedere per esempio da questa posizione abbiamo tante possibilità di ecco un lavoro che io faccio con gli allievi spesso è quello proprio di invitarli perché non tutte le mani poi sono uguali e non tutte le articolazioni sono fatte allo stesso modo per cui ognuno deve trovare questo angolo del pollice che se troppo come dire se il pollice è troppo parallelo alle corde in questo modo io trovo che poi il suono va a finire un po' esterno se io riesco a trovare l'angolo giusto e sistemarlo anche in funzione dell'indice innanzitutto e quindi per fare questo posso sia fare alternato ma anche fare dei piccoli accordi che mi permettono di verificare simultaneamente entrambe le le posizioni e l'attacco ecco e le dite allora io cerco appunto di trovare vedete questo per me ormai è questa è questa è questa però mi dite ma allora tu stai con una posizione fissa diciamo un'angolazione fissa la risposta è sì e no perché perché su questo angolo si può giocare cioè se io per dire voglio suonare un passaggio poi parlerò dell'alternanza sui bassi e così via se voglio avere un passaggio di bassi più incisivo automaticamente posso leggermente angolare di più il po' cioè spingere un po' di più se voglio essere un po' più morbido automaticamente il mio pollice può andare un po' più come dire verso tendente all'orizzontale rispetto alle corde e la pressione che io riesco a fare sarà minore ma nello stesso tempo posso ottenere un suono come dire un po' più aereo in qualche modo meno calato sulla come dire sulla terra in qualche modo andando sempre avanti con l'esempio uno vi propongo un utilizzo sempre diciamo del pollice l'indice ma in una situazione polifonica e anche qui dobbiamo immaginare che questo brano la Spagna di Capirola poi ne esiste anche un'altra di Spagna simile che si trova sul manoscritto Tibo che è sempre tenore della Spagna più una parte diminuita questa probabilmente era una cosa che i liutisti del Quattrocento facevano in due uno suonava il tenore uno suonava la diminuzione come peraltro è la famosa Spagna di Francesco da Milano anche se va detto che la Spagna di Francesco da Milano non è sullo stesso tenore della Spagna di Capirola e del manoscritto Tibo che invece è la vera Spagna diciamo quella che poi veniva chiamata il tenore della Spagna di Costanzo Festa allora qui che cosa abbiamo abbiamo che cominciamo a dover lavorare con un'altra come dire con un altro compito anche perché perché il pollice ha due due funzioni suona al basso la linea del tenore e suona e suona la diminuzione in aiuto del pollice viene il medio quando il pollice è impegnato sul basso quindi tutte le tutte le note che sono in simultanea si fanno col medio questo che significa che noi dobbiamo innanzitutto come dire insegnare al pollice a avere questo doppio in carico basso suono dalla seconda battuta perché non c'è simultaneità col medio un po' lento vado allora qui il pollice fa due lavori in pratica uno sta sui bassi e l'altro mentre poi in velocità sarà eccetera però ecco quello che vi voglio dire adesso è anche questo è uno studio importante da fare riuscire a insegnare al pollice a comportarsi in maniera diversa si sta eseguendo le note del tenore quindi con un attacco un po' direi profondo poi vi parlerò anche brevemente del pollice appoggiato che per me è anche una base della tecnica in questi casi non si fa in tempo ad appoggiare il pollice perché o meglio quasi si può appoggiare ma è proprio un appoggio temporaneo ma questa diciamo idea del pollice che si appoggia è credo l'idea che ci può aiutare a eseguire la linea del basso in maniera più incisiva e riconoscibile e come dire in questo modo creiamo una polifonia diamo l'effetto della come dire dei due esecutori uno che suona il tenore e uno che suona la parte melodica trovandoci qui poi in una situazione ritmica diversa rispetto all'esempio che ho fatto prima perché qui abbiamo una parte più diminuita allora qui si comincia a lavorare si comincia a lavorare sulla economia del movimento qui diciamo per acquistare velocità devo cercare al massimo di concentrare il movimento per fare questo io uso anche qualche piccolo come dire trucco varianti ritmiche uno può essere quella di per come dire per concentrare il movimento quella di studiare costringendoci in maniera che quando liberiamo no? diciamo sarà in qualche la mano si sentirà più libera però nello stesso tempo essendo stata costretta a fare movimenti piccoli non se ne va a sfarfallare troppo l'altro è quello di usare quello che usano anche diciamo si fa anche diciamo nelle tecniche moderne che è quella di usare delle varianti ritmiche tipo e il suo contrario in questo modo studiamo un pochino tutte le combinazioni distanziata e ravvicinata distanziata e ravvicinata poi al contrario si rifà l'opposto e poi quando diciamo torniamo alla normalità normalmente di solito diciamo si ha una sensazione anche qua di una maggiore scorrevolezza e fluidità passiamo adesso all'esempio 2 dove qui cominciamo a avere la vera e propria scrittura come dire polifonica quella cioè in cui oltre a suonare basso oltre a suonare una melodia ci sono delle situazioni in cui ci sono come dire più voci e qui nascono tutte le varie combinazioni della diteggiatura della mano destra del liudo qui l'esempio l'ho messo più che altro per richiamare l'attenzione sul fatto che l'intavolatura come voi sapete si serve del puntino il puntino era il segno che indicava la botta in su non credo che nessuna di queste prime intavolature dica espressamente il puntino significa l'indice dicono sempre il puntino significa la botta in su e questo fatto è confermato da da quei casi in cui ci sono due puntini come ad esempio vedete nell'ultima battuta del primo rigo dove lì abbiamo questo scusate ecco in questo caso vedete ecco quando troviamo noi questo tipo di scrittura perché si trova poi praticamente in tutto il repertorio dell'iudo quindi è una cosa che rimane la troviamo fondamentalmente quando ci troviamo di fronte a un'armonia spezzata che vuol dire questo vuol dire che in questo caso il il passo principale rimane il sol che è tenuto no e quindi era un accordo che poteva essere qui la scrittura poteva essere invece lui ha scritto e per questo motivo ha ha usato il doppio punto per dire guarda non devi suonare col pollice la nota più grave perché normalmente diciamo quello che si dà un po' per scontato è che la nota più grave viene fatta dal pollice l'altro vedete anche la stessa cosa si trova nel piccolo esempio che ho messo sotto quello con la cadenza vedete qui noi abbiamo la minuto diecis anche qui l'accordo sarebbe questo ecco io cerco di farlo in modo con questo tipo di articolazione un po' morbida ecco per me è importante anche questo lavorare molto con queste con queste articolazioni mi danno innanzitutto la possibilità di come dire di spingere un po' sulle corde senza lavorare da qui senza agganciare ad artiglio ma morbido qui ecco in questo modo e trovo che in queste situazioni si vede proprio perché ovviamente anche quando faccio l'accordo però in questo caso devo proprio fare questo effetto e quindi questo si trova tantissimo l'altra cosa che si trova anche molto diciamo che esce un po' dallo schema pollice indice come dire proprio molto schematico è quello che noi vediamo alla secondo rigo ultima battuta no? suono da prima ecco vedete qui noi abbiamo due puntini di seguito allora uno dice ma qui che è successo se è sbagliato di puntini sbagliati nelle intavolature del 500 ce ne stanno centinaia se non migliaia ma non è questo il caso qui è giusto e qui entriamo nelle prime eccezioni diciamo alla regola della simmetria pollice indice quando avviene questa questa situazione quando portare il pollice come dire lontano dal dal posto come dire da dove sta meglio è scomodo e a sua volta sarebbe scomodo mandare l'indice al posto del pollice cioè in questo caso la regola avrebbe voluto fare è ovvio che come dire se ne erano accorti anche loro che cominciavano a esserci delle come dire delle situazioni in cui la regola stretta non veniva rispettata e lui non ci dice però cosa devo fare con l'indice col medio devo fare tutto con l'indice potrebbe essere che sarebbe anche bene potrebbe essere questo ma potrebbe anche essere medio indice quasi un arpeggio in fondo ecco questi sono i punti dove noi abbiamo trovo un po' di libertà mentre trovo molto importante che nello studio si impari la regola giusta perché la regola giusta è poi quella che ci dà gli accenti giusti ci dà ci dà gli accenti giusti quindi quella lì da quella non si come dire non si deroga però ci sono i casi in cui invece è importante ed è come dire ed è fondamentale farlo se andate avanti nell'esempio due abbiamo degli esempi che ho preso da Dalsa Dalsa come sempre è un pochino più criptico però quello che mi è sembrato di capire è questo che per esempio vedete questo piccolo ricercare di cui ho messo poche battute l'inizio non mi mette il puntino sul anche se questo si potrebbe dire un accordo da fare non lo mette ma probabilmente è giusto suonare diciamo l'accordo ecco mentre invece questo me lo mette come chiaramente accordo spezzato la seconda battuta lo stesso avviene sul bellissimo pezzo intitolato Caldibi Castigliano dove verrebbe voglia lì poi non si sa se se manca il puntino no? però questo credo sempre di aver trasgredito quello che aveva scritto lui di averlo suonato cioè considerandolo un accordo spezzato però beh guardare pollice indice medio salto del pollice piuttosto che questa cosa che mi sto dicendo in altre intavolature si trova centomila volte e questo scritto con i puntini perché si considera un accordo spezzato no? però in questo caso possiamo come dire assecondare la scrittura una poi un capitolo a parte ovviamente poi anche perché mi sto accorgendo che sono già le 7.25 poi devo chiedere a Matteo fino a che ora possiamo andiamo avanti perché abbiamo cominciato con un pochino di ritardo almeno un quarto d'ora se siamo d'accordo ditemi voi perché io insomma se no poi rischio di come dire di sforare se non ci sono problemi su un quarto d'ora sicuramente possiamo alle 7.30 facciamo sempre 3.40 perché 7.30 mancano 4 minuti al mio orologio possiamo al limite chi non potrà fermarsi stiamo solo all'esempio mi accorgo cerco di andare però insomma come vedete gli argomenti sono ovviamente approfondirli un po' ci vuole un po' e i tempi ternari sono un grande pasticcio Andrea scusa ciao innanzitutto volevo chiederti in quest'ultimo esempio che hai fatto ma ad esempio nel rapporto diciamo sesto coro quinto coro sol do scusa ma aspetta ma qual'esempio l'ultimo che hai fatto no quello spezzato quello sempre di d'Alza ah sol do sì scusa ecco per esempio una quarta quando hai situazioni di questo genere da un punto di vista tecnico come lo gestisci tu il diciamo il fatto di interrompere la risonanza del sol ah sì allora quella lì quella lì allora con le corde ovviamente con delle piramide vecchio stile è un è un gran pasticcio con queste per esempio adesso su questo sei codici ho una una pesantita sintetica una cd di Mimmo Perufo e quindi se la lascio vibrare però il mio istinto fa sempre mi fa sempre fare questo faccio un po' un po' di questo se lo voglio stoppare non dopo cioè non non questo lo trovo che forse non so perché mi immagino la trovo una cosa moderna eh un po' moderna nel senso si fa lo fanno i chitarristi non lo facciamo sì io devo dire ma confesso che questa è una cosa mi ricordo che io l'avevo imparata guardando vedendo Oscar Ghiglia che lui faceva questa cosa che o col dorso del pollice questo è molto è buono ma togli un po' di cioè da una togli un po' di pronuncia cioè non so come dire cioè d'articolazione d'articolazione ma magari se vuoi una linea più conseguenziale forse la seconda sì diciamo che vedi se lo fai molto dipende dipende sì dipende perfetto grazie poi vabbè c'è il discorso invece che di questo forse potrei parlare perché se no si rischia di non parlarne diciamo che io più che posso appoggio il pollice e questo si trova su fonti un po' più tardi ma se noi poi andiamo a vedere bene io penso che il pollice appoggiato costituisce il contrappeso del mignolo appoggiato in altre parole la mano come dire è assicurata da due parti qui appoggio questo e qui appoggio questo e in questo modo io prendo le corde quindi tutte le volte che posso appoggio se non appoggio è come se perché una volta che l'abbiamo imparato l'appoggiato possiamo anche quasi farlo senza senza avere appoggiato perché l'appoggiato lo possiamo fare solo se abbiamo una corda libera no se devo suonare qui non posso più appoggiare ma voglio un suono allora lo faccio come se appoggiassi e questo come dire mi crea equilibrio alla mano perché ripeto appoggio questo e appoggio quest'altro no e in mezzo le dita sono come dire stanno al sicuro in qualche modo vedo con gli allievi che spesso è difficile lavorare questa cosa perché il pollice appoggiato sembra una stranezza sbattono le corde però una volta che l'hanno imparato è cioè una volta che l'hai imparata è una cosa che non te la scordi e la usi dicevo i ternari ecco questa è una cosa una cosa come dire importante di cui è difficile dare una soluzione definitiva e in particolare essendo Dalsa un autore un po' stravagante qualche dubbio viene però si trovano anche diverse situazioni in cui c'è una conseguenzialità quindi non sembrano dei puntini messi lì un po' sbagliati ma sembrano giusti allora noi sappiamo anche da altre situazioni che la formula base del ternario era pollice indice pollice no con terzo pollice un po' più leggero in modo che si ricada sul battere però Dalsa non fa sempre questo c'era un esempio che purtroppo se voi vedete per esempio il vi chiedo scusa solo un istante scusate la figlia che reclama allora dicevo adesso ho dimenticato di metterlo ma c'è ad esempio l'inizio della piva a due liuti di Dalsa che anche quello ha una diteggiatura caratteristica che va assecondata in qualche modo allora Dalsa molto spesso invece di fare questa quella formula come dire tradizionale pollice indice pollice mette sul secondo tempo il pollice no? per esempio vedete in queste pive ovviamente questo se noi lo accettiamo ne approfittiamo e lo usiamo come un'articolazione diversa da quella che sarebbe quella più tradizionale anche perché noi vediamo che a volte Dalsa quella tradizionale la usa per esempio passo direttamente alla piva del lo chiamo a 24 retto quella in Do no? questa qui a parte un caso che non so se è sbagliato però è tutta riportata all'ordine diciamo tradizionale anche le calate no? le calate anche usano spesso l'effetto vedete la calata alla spagnola quella detto terzetti a parte che lì abbiamo i due puntini uno di seguito all'altro che potrebbero stare qualcosa di questo genere anche oppure forse è meglio fare un effetto un po' più swing poi abbiamo pollice pollice eccetera no? ecco allora un'altra cosa di cui vi parlo brevemente poi diciamo ecco che vi parlo brevemente poi mi fermo qui per chiedere se ci sono domande visto che comunque sono passate le sette e mezza è nella polifonia l'uso del pollice diciamo e del medio nella polifonia e ho preso qualche esempio di Francesco da Milano allora su Francesco da Milano capita abbastanza spesso e non è un caso il fatto che quando va sui bassi e non sono troppo veloci scompaiono i puntini del pollice ma come si vede in questa inizio di fantasia no? eccetera allora che sta a significare questo? ripeto l'ho visto tante volte nelle intavolature di Francesco da Milano e invece vi farò vedere che in altre non c'è questa cosa io posso immaginare che da una parte Francesco da Milano cominciasse a come dire a prendere in considerazione la come dire l'effetto sgradevole che potevano avere le ottave in una composizione polifonica la stessa cosa la si trova in Alberto da Mantua che stampa le sue opere in Francia ma con le stesse diciamo spesso caratteristiche che sui bassi si trova poco l'uso dell'indice a meno che non siano delle tirate un po' veloci e quindi ecco questa è una cosa che dobbiamo a mio avviso osservare e quando possibile rispettare l'altra cosa invece riguarda sempre sempre riguardo Francesco Daminano è l'uso del medio quando il pollice sarebbe come dire un po' scomodo un po' impacciato per esempio quando noi vediamo il secondo secondo rigo di questa fantasia passo direttamente qui attacca il medio 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 eccetera ecco quindi quest'uso del medio che poi noi troviamo ve lo faccio vedere adesso anche se tra un attimo nelle intavolature francesi ecco altro esempio dalla famosa fantasia 33 dove noi vediamo che nei passaggi di ottavi puntino per il medio non ci sono i puntini del pollice perché evidentemente vuole un suono più attaccato più senza che ci sia no anche perché noi consideriamo che l'alternanza pollice indice crea una certa leggerezza no però se vogliamo come dire essere presenti su ogni nota è più facile farlo solo col pollice vedete cose simili le troviamo questa qui è la le istruzioni di Leroy che come sappiamo erano date perdute quelle in francese esiste la versione di inglese però è più tarda però si riferisce chiaramente a un periodo più precedente ecco in questo passaggio vediamo chiaramente l'uso del pollice e poi guardate questo passaggio due puntini di seguito indice medio di nuovo indice medio eccetera e qui è proprio scritto perché questo perché in fondo questo si potrebbe fare tutto col pollice cioè dove normalmente si mette però invece qui voleva un suono espressivo noi specialmente sulla prima corda il suono del medio è chiaramente un suono più può essere più affondato più espressivo mentre il pollice dà un effetto più come dire un pochino più meccanico se vogliamo se vogliamo veramente cantare il medio ci aiuta ci aiuta di più ecco stessa stessa cosa qui questa vedete una fantasia inizio di una fantasia di Alberto da Mantova medio perché andarci col pollice qui lo sappiamo tutti è un po' rischioso come il suono e lui lo scrive proprio poi anche qui non rischia l'uso del pollice sulla melodia è interessante questo fatto perché non si trova così tanto a seguire all'esempio 6 ho messo due esempi in cui diciamo imbarba il fatto che poi stiamo parlando di un'epoca più avanti perché barbetta siamo anni 70 i manoscritti dell'archivio Albani siamo addirittura a fine 5 primi 600 imbarba questo dicevo scusate cambio un secondo liuto troviamo i puntini dell'indice tranquillamente sul quinto sesto addirittura sul settimo coro che è una cosa che è una cosa che non si può fare neanche col programma di Francesco Tribbioli con Fronimo perché Fronimo i puntini te li mette fino al sesto coro allora vedete qui abbiamo questo passaggio della Moresca suono direttamente siamo alla seconda battuta è quasi più difficile perché dobbiamo andare a pescare le note questo corrisponde a tecniche ad abitudini tecniche diverse vedete questo passaggio questo è un brano del Cavaliere del Liuto tutte pollice indice evidentemente avevano questa tecnica sviluppata e mi immagino anche che ancora questa tecnica è chiaro tutto si può fare però è molto più facile con la posizione del pollice interno perché arrivare arrivare in questa posizione e fare per carità forse ci riuscivano però diventa come dire diventa un po' un'impresa farlo bene per cui io immagino che ancora questa musica la suonassero questa posizione allora sentite io visto che sono 41 per il momento mi fermo e chiedo se ci sono domande c'avevo ancora materiale magari se ne farà un'altra beh volendo non c'è problema possiamo possiamo farne un'altra adesso se ci sono domande o precisazioni se qualcuno vuole dare un contributo io volevo dire sì che tutto sommato nell'ultimo esempio del pollice indice sui cori molto gravi che io la uso e mi trovo anche abbastanza bene dopo non sarà ma sempre la casistica però sono quasi più facilitato in certe cose probabilmente perché tengo la mano ancora certo col pollice di entrante però la trovo molto pratica con quella posizione della mano tanto è vero che la userei anche con Piccinini certo sì ma poi sai anche Piccinini parla di questa maniera di suonare di suonare la voce del tenore addirittura lui mi pare dice di farlo con l'anulare perché proprio per lasciare più spazio perché lui ci sono dei passaggi dove bisogna fare la diminuzione nei registri gravi però certo arrivare fino al settimo così è dura insomma sarebbe dura per me io un po' lo so usare la posizione col pollice fuori non altrettanto bene che quella che un pollice dentro però non sarei capace di suonarlo come dire bene certo credo infatti probabilmente con quel tipo di clianza della mia mano sì anche per lui l'esposizione dell'unghia probabilmente diventa certo più difficile a tenere il suono pulito certo questa era la qualcuno vuole intervenire io scusa un secondo sì Tiziano Andrea prima mi si è andata via la connessione un secondo quando parlavi di Leruano l'esempio 5 sì uno due tre la quarta battuta se non sbaglio tu ti soffermavi sul fatto che la A e la C avessero entrambi un puntino e un puntino esatto e poi due battute dopo succede lo stesso sì ma appunto e quindi scusa mi sono perso quello che hai detto in quel momento quindi tu fai la T e la C con pollice medio certo e poi la A indice e la C medio ah ok certo e dicevo che questo secondo me è semplicemente un fatto timbrico qui perché non è che la prima corda sarebbe fattibilissimo tutto lì cioè se non lo trovassimo scritto noi penseremmo che fanno tutto pollice indice no? certo ma quindi sul fatto che utilizzi ancora un puntino uno solo è indicativo unicamente del fatto che non usi pollice sì e anche cioè e noi sappiamo che comunque loro ancora non l'avevano introdotto specialmente nelle stampe non c'avevano proprio come dire il carattere tipografico sì quindi mettevano un puntino per dire sì sì senza pollice esatto esatto perfetto d'accordo grazie bene grazie molte no grazie a voi ditemi se ecco se può essere utile questo tipo di ecco io proporrei io proporrei che diciamo questi tutti gli altri esempi ce li potrei illustrare in un secondo momento eh se volete sì va bene molto volentieri molto anche perché ditemi diciamo no possiamo no io se volete perché in realtà vi parlo di fatti personali però no c'avevo un attimo di fretta ma mia figlia resta a cena dall'amica dalla quale dovevo andare a riprenderla per cui se come dire sentiamo gli altri se volete altri dieci minuti un quarto d'ora posso restare dipende così magari questa l'esauriamo la prossima volta si fa un'altra cosa d'accordo mi d'accordo grazie bene allora allora seguiamo diciamo al massimo sulle otto perché io devo sì sì no infatti no no anch'io le otto ma l'altro corso le otto e mezzo ho capito no allora poi insomma tutto sommato come dire le cose importanti credo di averle dette gli esempi successivi che ho messo riguardano un'epoca in cui è abbastanza invece assodato che si usasse il pollice esterno anche se noi come dire facciamo un po' i furbi qua io devo dire sono arrivato a suonare col pollice esterno la tiorba l'iuto barocco la chitarra barocca ma questa musica così di di come dire di interconnessione fra un'epoca e l'altra preferisco sto più tranquillo a suonarla ancora col pollice col pollice interno però ecco per dire che qui è abbastanza evidente che l'uso del medio appare questo è il manoscritto 38539 è costituito John Stuart loot book dove la diteggiatura è scritta in maniera molto conseguenziale dettagliata insomma è una fonte per me molto preziosa insieme anche a Folger, Dowland ovviamente siamo siamo in Inghilterra però penso immagino sempre che questa è una tecnica che in ogni caso faceva un po' capo sempre a Besar che ha il suo maestro e quindi a Lorenzino Dell'Iuto Lorenzino Tracetti che era italiano come sappiamo per cui probabilmente era una tecnica italiana che si era diffusa un po' in Europa e qui vediamo chiaramente ecco qui adesso non c'è bisogno neanche che ve lo suoni vediamo chiaramente che l'uso del medio è come dire è molto è molto evidente ad esempio in questa in questa all'emanda di Robert Johnson se andiamo invece a vedere questo passaggio della famosa fantasia di di Donan ecco un attimo mi ci soffermo perché perché questo è uno degli esempi che io uso come guida diciamo come guida per decidere cosa fare col pollice e l'indice o con il medio e l'indice perché qui è tutto scritto e io questo mi ricordo sto passaggio me lo fece studiare Anthony Bales quando stiamo con lui e credo che sia illuminante poi ce ne stanno altri ovviamente però questo appartiene a un pezzo molto molto famoso allora voi vedete che tutta la prima parte del passaggio diminuito della fantasia numero 7 cosiddetta da Variety of Lessons di Dohland è fatto col pollice e l'indice perché perché non c'è troppa distanza esattamente poi quello che dice Bessard qui è tutto pollice e indice qui è un po' diverso scusate da quella e qui cambia pollice appoggiato sui bassi e partono partono al medio e l'indice ecco qui diciamo l'imperativo che io mi do perché io so che avendo le dita un po' lunghe tendo un po' a come dire a muovere troppo dobbiamo cercare il più possibile di concentrare di concentrare il movimento in maniera di avere il suono più possibile incisivo ed è che questo come vedete l'uso del medio e dell'indice avviene quando si crea una certa distanza quindi saltare col pollice comincerebbe a diventare scomodo ci sono passaggi simili anche in Folger Doland dove ancora si vedono i puntini solamente dell'indice per esempio nel Folger Doland tutto il passaggio della Frog Almiad è scritto pollice indice anche se verrebbe voglia sulla scorta di questo di suonare di suonarlo col meglio l'indice e ovviamente poi lì entrano anche entravano anche quelle che erano le le scelte le abitudini dei singoli suonatori non è che c'era sicuramente un'unica maniera di fare le cose ultima cosa poi vabbè vi ho messo qualche esercizio che faccio che faccio fare di quello poi volendo se ne può parlare un'altra volta ultima cosa un'ultima suggestione direi che ci viene da un diutista che non è molto conosciuto che è Charles de Lespin siamo in Francia cioè lui in realtà è stato un viaggiatore ha lasciato anche diversi diari ha scritto molto esiste un suo repertorio sia per Vieton cioè l'accordatura rinascimentale sia che per accordature moderne e e lui così ha lasciato qualche aforisma potremmo dire su come si suona il liudo dicendo che per suonare il liudo ci vuole una serie di qualità innanzitutto saperla accordare innanzitutto poi essere in grado di andare a tempo perché sennò dice chi non va a tempo è come una barca che sta in mezzo al mare senza timone e poi c'è quest'altra cosa dice un'altra cosa interessante dice se vuoi essere un bravo litista diciamo un bravo litista è uno che non suona mai due cose diciamo la stessa cosa la ripetizione diciamo nella stessa maniera dice perché se vuoi essere un bravo litista devi essere sempre in grado di cambiare di variare qualche cosa non dice come se si tratta di variazioni dinamiche oppure di minuzioni abbellimenti probabilmente è un insieme di tutto questo e poi dà quest'idea del suono lui dice nel toccare le corde e farle risuonare cioè bisogna toccare le corde e farle risuonare così nettamente come quelle di una spinetta come se uno desse un colpo con un coltello su un bicchiere di cristallo su un bicchiere però lui dice raramente dice in una stessa persona si trovano tutte queste qualità però come dire ci dà queste informazioni ecco questo è un piccolo poi c'è un piccolo esercizio che ho aggiunto che serve un po' per bilanciare secondo me tenendo l'indice fermo una cosa importante nella mano destra è quella di non muovere troppo quindi trovare una posizione che anche quando poi adesso non ve lo faccio ci allontaniamo usciamo come dire ad avere una posizione il più possibile concentrata è ovvio che quando serve si può fare questo ma ho visto con l'esperienza che come dire meno lo facciamo e meglio è ho poi aggiunto due brani uno è la brand di Lorenzino da Thesaurus che è un ottimo esercizio per studiare il pollice e l'indice sia con pollice indice che che con medio indice quindi è un brano che si può studiare in maniera un po' come dire differenziata io ho dato dei suggerimenti ho messo un po' di indicazioni ma comunque si può trovare la propria la propria formula e poi ultima cosa c'è un la prima parte di un passamezzo che sta nei manoscritti albani che è secondo me molto utile anche questa per lavorare sui passaggi del pollice che richiede un continuo lavoro della mano destra adesso non c'è tempo però magari ve lo potete vedere se qualcuno ha qualche domanda me la può fare anche per conto così proprio ed è interessante appunto perché richiede un grande lavoro della mano destra ma ho visto che è molto utile bene se non ci sono domande io direi che questo punto chi vuole può diciamo possiamo attivare il video no 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 no